il presidente si è già lanciato da qua, se lanciare o no ma tu fai uno e io e tu, Alessandro se tu fai ma che no, lanciare il presidente che vuoi? mi lancio Dio pure caffè andro e tu fai ma tu fai ma sei tornando a tuffare adesso ma non hai l'acqua Manuel e lui e lui e lui e lui e lui ma non ci si tuffano ma non ci si tuffano ma tu sei si? se c'hai scogliato ferma ma qui ci dobbiamo fermare e voi? no ah perchè non era qui dall'altra parte è troppo difficile via fredda fredda? come ti è fredda? acqua acqua aspetta 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 Manuel te la facerà